Le nostre fughe in città, ai mercatini di tutti i rioni, mi ricordo, con la 500, era dura I mercatini, la spesa, la spesa con io, la Marisa, Elio, la carrossina in una 500 ed era la spesa mensile Quando uscivamo dallo spazio aziendale la Marisa era coperta, tutta coperta dalla spesa Perché lo spasso nella 500 era quello E quando Simone ti grattugiava la... Simone è mio figlio che aveva un anno Allora facevamo stimolazione della pelle, dei muscoli per mantenere... Allora, Elio faceva i massaggi, io facevo i massaggi, mio figlio prendeva la spassola dei panni e gli passava quella da me Ti ricordi? Che spettacolo! Che spettacolo! Quando siamo andati a Cisore! 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 Campeggio, parrocchiale... Prendoboi, per fortuna che ti ha scaldato Alfonso col caffè! Corso, racconta! Ah no, rischiate di perdere la cosa più cara Eravamo tutti a tavola, servivamo il caffè Avete mai visto muovere lei? Mai! Passo con la moca del caffè, parte sto braccio qui Pum! Della bocca doveva finire nel posto più caro di... Prendilo su col caffè bolleno Prendilo su, spogliono di cose Sotto la doccia Sotto la doccia fredda Non so se abbiamo salvato tutto Marisa non si è mai lamentata però Si vede che tutto sommato era ritornata La doccia fredda Non è andata male, male, male Non è andata male, male, male Solo un pochino bruciacchiato Solo un pochino di dolore Sotto la doccia fredda Sotto la doccia fredda